bene, bocciati. Io volevo sapere da tutti e due quanto avevate in condotta. Allora, questa riforma è l'anacaprina, perché i voti che si accambiano dal 9 all'ottimo, dal 7 al discreto, eccetera, chi se ne frega, è poca roba. L'altro fatto della punizione del 5, eccetera, non è che la destra sia la depositaria dell'ordine, non esiste questa storia. L'ordine è una cosa seria, è una cosa di tutta una civiltà. Quindi se uno è violento, se uno è giusto colpirlo con il 5 condotto, è giustissimo colpirlo. Ed è giusto che il 5 condotto significhi bocciatura. Ma a me sembra anche giusto. Tu quanto avevi in condotta? Sarà una cosa di destra? No, io davo sempre 9-10 in condotta, mi piacevano tutti i miei studenti. Ma tu quanto avevi in condotta? Io avevo 9 ma anche 8 qualche volta. Sai che qual è il vero scandalo? Sono altri tre nella scuola. Il primo fondamentale è che l'abbandono scolastico, si va sempre di meno a scuola, è in università. Il secondo, la vergogna degli stipendi agli insegnanti. Una vergogna mondiale. E la terza è, vabbè, sul merito posso essere anche abbastanza d'accordo, purché si parta tutti uguali, che si sia per la strada tenuti tutti nella stessa considerazione. Cosa che non avviene. Francesco, io vi già tenuto in cinque. Grazie.